Grazie. 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 Con i salmi del dolore che hanno annunciato questa morte di sofferenza, questa morte a servizio dell'umanità. Ripetiamo insieme, Signore accorre il mio aiuto. Un branco di cani mi circonda, mi assedio da banda di malvagi, hanno forato le mie mani e i miei piedi, posso contare tutte le mie ossa. Signore accorre il mio aiuto. Essi mi guardano, mi osservano, si dividono le mie vesti, sul mio vestito gettano la somma. Signore accorre il mio aiuto. Quando un Signore non sta lontano, mi appolta, accorre il mio aiuto. Scappami dalla spalla, dalle unghie del cane, la mia vita. Signore accorre il mio aiuto. Salvami dalla bocca del leone e dalle donna dei bufali. Annunzierò il tuo nome e i fratelli. Ti donerò il mezzo all'assemblea. Signore accorre il mio aiuto. Padre nostro, che sei di sé, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fanno dalla tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria piena di grazia, il Signore è contento. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria piena di grazia, il Signore è contento. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria piena di grazia, il Signore è contento. Ave Maria piena di grazia, il Signore è contento. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria piena di grazia, il Signore è contento. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria piena di grazia, il Signore è contento. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria piena di grazia, il Signore è contento. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria piena di grazia, il Signore è contento, tu sei benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. «F跳ere la mia fine». Receb i більi Egyptiani social sono stati la gente i な間 di grazia, il Signore è il frutto del tuo seno, Gesù. Eh, tanto no, Gesù,能ava. Ave Maria piena di grazia, il Signore è un frutto del tuo seno, Gesù, Gesù. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.